Asta del fantacalcio dietro l'angolo, su quali giocatori puntare in difesa? Ve lo diciamo noi! Qualunque sia il numero di fantallenatori nelle vostre leghe, i super top sono due. Il primo è senza dubbio Theo Hernandez. Potreste pagarlo davvero tanto, ma la resa è assicurata. Anche Denzel Danfries dell'Inter fa gol a molti, gioca alto nel 3-5-2, anche se il suo futuro resta ancora un po' in bilico. Comprare solo terzini pensate sia la tattica giusta? Sbagliato, perché anche i difensori centrali, che costano poco e con un buon rendimento, possono ritornarvi molto utili. L'esempio lampante è Pier Calulu, rivelazione della scorsa stagione, che potreste pagare anche un credito stesso, identico discorso, anche per Rachmani, fedelissimo di Spalletti, farà coppia con Kim Minjiae. Occhio, non spendere troppo. Due calciatori listati difensori, ma che invece giocano altissimi nei 3-5-2, sono Carlos Augusto e Simone Bastoni. Il primo è una certezza del Monza di Stroppa, il secondo l'anno scorso in Serie A. Tre gol e due assist. Il loro prezzo non dovrebbe essere troppo alto. Segnatevi i loro nomi. Se invece nella vostra Lega puntate sul modificatore di difesa, prendendo Bremer e Faraoni, non vi sbaglierete mai. Spinazzola, recuperato al 100% dopo l'infortunio, è pronto a riprendersi il suo posto sulla fascia sinistra. Shingo, invece, al secondo anno con Juric, potrebbe addirittura fare meglio dell'anno scorso. Tra le certezze troviamo Cristiano Biraghi, sempre titolare, e a lui sono affidati tutti i calci piazzati della Viola. Destini Udoge, nonostante l'accordo con il Tottenham, dovrebbe rimanere un altro anno a Udine. Puntate su di lui. Come sarà composta la vostra difesa? Ditecelo nei commenti!